Da bambino aveva un sogno quello di fare il cantante, cosa che poi tra l'altro farà anche, solo che non è assolutamente ricordato per questo. È inserito nell'elenco dei 100 sportivi italiani più grandi di tutti i tempi. Lo chiamavano tra l'altro anche lo spardiero di Poggio Reale, perché colpiva come un rapace e poi si metteva nuovamente in guardia. Subito dopo la sigla racconto i 60 anni di Patrizio Oliva. Patrizio Oliva nasce il 28 gennaio del 1959, quindi oggi è il suo compleanno e gli facciamo davvero tantissimi auguri. È stato un campione di pugilato, uno dei più grandi campioni dello sport che l'Italia abbia mai avuto, uno dei più grandi pugili che l'Italia abbia mai avuto. È stato campione italiano, campione europeo, campione del mondo, è stato campione olimpico, insomma una carriera incredibile. Ha combattuto nelle categorie dei pesi leggeri, dei superleggeri, nei pesi welter. Ma come sempre andiamo con ordine. I genitori di Patrizio Oliva si chiamano Rocco e Caterina ed abitano in via Stadera, Poggio Reale. Con Patrizio Oliva ci sono anche altri sei figli. La zona di Poggio Reale dove abita Patrizio Oliva è una zona difficile. Lo era quando è nato Patrizio Oliva, lo è tutt'oggi. Siamo nella periferia della periferia del capoluogo partenopeo, anche se in realtà ha due passi da quella che doveva essere una nuova rinascita della città di Napoli, ossia il centro direzionale. Ma quando è nato Patrizio Oliva tutto si pensava fuorché al centro direzionale all'epoca. La famiglia Oliva è una famiglia umile, non ha grandi possibilità economiche, ma la contraddistingue per una comune passione per il pugilato. Il pugilato a quei tempi era anche la possibilità per un ragazzo che si cimentava con questo sport fatto di sacrifici, di dolore, di fatica, di sudore, di grandissimo impegno come una possibilità per riscattare un'esistenza fatta fino a quel momento di tante ma tante difficoltà. Patrizio Oliva si innamora di questo sport all'età di otto anni perché insomma vedeva il fratello più grande che sarà tra l'altro il primo talent scout di Patrizio Oliva fare la borsa e andare in palestra a dar di pugni come si diceva all'epoca. Patrizio Oliva quindi preparava la borsa al fratello, dicevo io ti preparo io, insomma tutte le cose che ti servono basta che mi porti con te. Poi inizia a frequentarla lui personalmente, il fratello che parla con gli allenatori della Fulgor, una celebre palestra di pugilato a Napoli. E Patrizio Oliva racconta che faceva piedi da via Stadera sino alla palestra per risparmiare anche i soldi del pullman. stiamo parlando davvero di un pezzo lungo di strada per chi non è di Napoli diciamo che ci vuole abbondantemente più di un'ora, un'ora e un quarto di cammino a passo svelto. Mentre Patrizio comincia ad allenarsi, a fare qualche piccolo combattimento che comunque inizia già a vincerli tutti, c'è un rutto nella famiglia Oliva. muore il fratello di Patrizio, Ciro. Questa morte segnerà per sempre, insomma, la vita di Patrizio Oliva. Tanto è vero che poi chiamerà suo figlio proprio con il nome del fratello. Patrizio Oliva ha un idolo davanti ai suoi occhi e Nino Benvenuti, un altro grandissimo campione di pugilato italiano. italiano. Inizia a combattere e a vincere, vince, vince sempre e diventa campione italiano nel 1976. Lui che è un juniores si impone nella categoria open, batte insomma quelli anche che sono molto più grandi di lui. Da lì è una vittoria dietro l'altra. E il 1976 è Patrizio Oliva, ha appena 17 anni. Poi, e stiamo comunque parlando di dilettantismo, e poi arriva la vittoria nei campionati europei del 1978, sempre nella categoria dei pesi leggeri. Poi succede qualcosa. Nel 1979 c'è la finale del campionato europeo. Patrizio Oliva domina quella finale. Secondo tutti gli esperti che sono a bordo ring, secondo anche tutti i telecronisti, gli esperti giornalisti, insomma, che raccontano quell'incontro, Patrizio Oliva vince nettamente. Eppure, il verdetto gli è contrario. Vince il suo avversario, il sovietico Konak Bayeva. Patrizio Oliva accetta questa amara delusione, ma ciò lo sprona ad andare più avanti. E sarà comunque un anno difficile, di tantissimi sacrifici. Patrizio Oliva racconterà che lui non è un tipo scaramantico, non ha delle fisime quando entra sul ring. Lui semplicemente porta nella sua mente un block notice, quando sta salendo sul ring insieme alla paura, come poi vedremo alla fine del racconto. In questo block notice ha notato tutti i sacrifici, il sudore, le grandi privazioni che ha dovuto sopportare per arrivare a quel combattimento. Porta tutto con sé e si ripassa sulla mente tutte queste cose mentre guarda in faccia l'avversario. Cosa che farà anche nel 1980. Quando ci sono le olimpiadi a Mosca, Patrizio Oliva è uno dei favoriti e vince praticamente tutti gli incontri fino ad arrivare in finale. Ed è proprio lì che incontra nuovamente quel sovietico che aveva ingiustamente vinto il campionato europeo l'anno precedente. Patrizio Oliva vince nettamente ai punti e quindi si laurea campione olimpico. E il 1980 vince proprio a casa tra l'altro del suo avversario. La sua è una vittoria incredibile, pensate, ha appena 22 anni. Nel 1981 passa ai professionisti. In realtà non cambia granché per Patrizio Oliva e stesso lui a raccontarlo. Cambiano soltanto i carichi di lavoro perché ovviamente tra i professionisti i round sono 15, non sono 3 come invece per i dilettanti. Quindi la fatica si moltiplica per 5. Anche in questo caso diventa campione italiano e nel 1983 diventa campione europeo dei pesi superleggeri tra i professionisti. Ora per Patrizio Oliva ci sono anche oltre gli onori per aver vinto la medaglia olimpica 3 anni prima, anche la fama, la pubblicità, soprattutto arrivano anche i soldi. Passano altri 3 anni. Patrizio Oliva difende varie volte il titolo di campione europeo. Nessuno riesce minimamente ad impensierirlo. Finché nel 1986 ha la grande chance. A Monte Carlo si combatte per il titolo. Il campione del mondo in carica ha vinto di recente. È un argentino, un forsennato, un combattente, un lottatore. Patrizio Oliva, secondo i tanti esperti di pugilato, parte nettamente sconfitto per il match. E lui invece sorprende davvero tutti. Non solo riesce ad imporre la sua box, soprattutto nei primi 10 round, ma sbalordisce tutti i suoi affezionati tifosi perché si dimostra di essere anche un incredibile incassatore. Alla fine vincerà e sarà il nuovo campione del mondo. Ma avrà, ed è l'unica volta che accadrà nella sua carriera, il volto completamente tumefatto. Io ero un suo grande tifoso. Vedevo tutti i suoi incontri di pugilato. E ricordo che il giorno dopo la sua incredibile vittoria contro Sacco, lui si presentò come ospite a Domenica Inn. Era il tardo pomeriggio. La gara c'era stata neanche 24 ore prima. Aveva degli occhiali scuri quel tardo pomeriggio del giorno dopo la sua vittoria a Monte Carlo che l'aveva incoronato campione del mondo. Il volto era completamente masciullato. Era completamente gonfio. Lui stesso portava questi occhiali scuri per non far probabilmente troppo spaventare soprattutto i suoi familiari. Probabilmente anche se a Bordo Ring aveva avuto l'intera famiglia che faceva il tifo per lui e con lui tutta Napoli, tutta l'Italia. Tra l'altro lui poi raccontò che per tutto il match aveva avuto un santino del fratello Ciro nei guantoni per tutta la durata del match. Passano quattro anni e Patrizio Oliva nel 1990 diventa anche campione europeo dei pesi welter. Insomma, campione nei pesi leggeri, nei superleggeri e nei pesi welter. Lascia Patrizio Oliva definitivamente il Ring nel 1992. Molti lo hanno chiamato soprattutto, insomma, a Napoli lo sparviero di Poggio Reale. Alcuni l'hanno chiamato il Rivera del Ring perché la sua box non era certamente spettacolare. Ad ogni modo riusciva ad imporre sempre il suo pugilato. Incredibile il suo palmares. Qua vado a leggere perché, insomma, non volevo assolutamente sbagliarmi con una persona che in realtà è un mio idolo. Ha combattuto come dilettante 96 incontri, 93 vittorie. È stato campione italiano nel 1976, nel 77 e nel 78. Campione d'Europa nel 1978. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e tra l'altro è stato ritenuto il miglior pugile di quell'Olimpiade. E quindi significa che in quella competizione, nonostante ci fossero anche i pesi medi, i pesi massimi, lui comunque la sua box, il suo modo di combattere era riconosciuto come il migliore di quella competizione. Invece, quando ha combattuto tra i professionisti, è salito sul ring 59 volte. Ha vinto 57 volte. 20 volte per KO. È stato campione italiano dei superleggeri, campione d'Europa dei superleggeri e dei Welter. Campione del mondo dei superleggeri. E poi quando ha appeso i guantoni al chiodo, in realtà è soltanto sceso dal ring, ma è stato il CT della Nazionale di Pugilato alle Olimpiadi del 1996 e del 2000. Ha fatto tantissime cose, Patrizio Oliva, nella sua vita. Ha inciso canzoni, per esempio Ciro a papà, famosissima frase che è stata immortalata anche in tutte le salse, quando lui usciva vincitore dopo una gara combattutissima dal ring. Ha inciso l'LP, resterò qui con 12 brani, tra l'altro due di questi scritti proprio da Patrizio Oliva. Ed ancora nel 2007 ha partecipato al talent show di Milli Carlucci Notti sul ghiaccio e si è classificato al decimo posto. Ed ancora nel 2015 ha partecipato invece all'Isola dei famosi ed è stato eliminato durante la seconda puntata. Attualmente tra l'altro è istruttore di Pugilato presso la Confederazione dell'Alba. Ha anche partecipato a due film, Butterfly Zone, Il senso della farfalla e il film Il flauto. Ha fatto anche teatro Patrizio Oliva. Nel 2014 ha impersonato Pulcinella nella PIS due ore all'alba. E ancora invece nel marzo di quest'anno, quindi tra qualche settimana, si cimenterà al MAN, al Museo Archeologico Nazionale, dove proporrà un'altra PIS tratta dal suo libro, di cui tra poco parlerò, Patrizio vs Oliva. Patrizio Oliva fa davvero tantissime cose. Lavora per esempio con alcune aziende come Motivatore. Si è cimentato a fare invece a Malta l'imprenditore di mozzarella ed ha tra l'altro chiamato con sé un ex campione, questa volta di ciclismo, Chiappucci. È organizzatore di vari eventi pugilistici nazionali ed internazionali. È commentatore di Pugilato ovviamente per la Rai. Ha fatto anche pubblicità con Fiorello e lui faceva il maestro di Pugilato di Fiorello, per una nota azienda di telefonia. Il suo è tra i cento nomi degli atleti, gli sportivi più grandi di tutti i tempi che sono in Italia, nella strada che porta dallo Staglio Olimpico al CONI. Una serie di nomi del nostro paese che ci hanno fatto emozionare con le loro imprese sportive, imprese talvolta leggendarie. Ebbene, Patrizio Oliva di diritto è stato messo in questa lista di cento nomi. E poi volevo concludere con una serie di frasi. Per esempio, Patrizio Oliva non la manda certo a dire a chi attualmente governa il pugilato nel nostro paese. Per esempio, lui è stato assolutamente contrario al fatto che i grandi pugili degli ultimi 10-15 anni italiani non siano mai passati al professionismo. E si riferisce per esempio a Camerelle, a Russo. Se fossero diventati professionisti, ritiene Patrizio Oliva, avrebbero dato la spinta a tutto l'ambiente. Invece di pugilato, ormai si parla in Italia soltanto quando ci sono le Olimpiadi e soprattutto da una semifinale in poi. Altra cosa non la manda certamente a dire Patrizio Oliva riguardo sempre al pugilato, quando gli si fa notare che oggi quelli che fanno dilettantismo hanno il casco che li difende. Dice, oggi quel casco ha fatto perdere ad ogni pugile il significato, il valore della tecnica, perché loro comunque incassano dei colpi e non sentono niente. Altra cosa invece quando combatteva lui, giustamente che si era pronti a non incassare un colpo, ad evitare un colpo e poi eventualmente appiazzarne invece uno. Quindi lui ritiene che il casco abbia in qualche modo fatto perdere quello che è il fascino del pugilato. E poi le ultime due cose. Il suo rapporto con Napoli. Lui non ha mai abbandonato la nostra città, vive nei quartieri spagnoli. Tra l'altro è insegnante di pugilato in una palestra a Napoli, dove tra l'altro tra i suoi allievi c'è anche Arturo, il ragazzo che è stato accoltellato quasi mortalmente, fortunatamente poi si è ripreso a via Foria. Lui dice che soprattutto nei quartieri difficili di Napoli, quando per esempio un genitore viene arrestato e viene messo in galera, il giovane non deve assolutamente essere lasciato solo, perché probabilmente il dirimpettaio è uno spacciatore. E ritiene che il carcere non deve essere punitivo, bensì educativo e le pene non dovrebbero mai durare meno di tre anni. Mettere dentro un ragazzino per qualche mese non serve a niente, perché quando esce continuerà a delinquere. Mentre lasciarlo dentro, ma educarlo, insegnargli il valore dello sport, dell'arte, della musica, insegnargli un mestiere, questo farà sì che lui uscendo dopo qualche tempo sarà certamente un cittadino migliore. E poi sulla camorra napoletana Patrizio Oliva ha detto ti fa vedere il sole per un giorno e poi ti risucchia all'inferno per tutta la vita. Per maggiori approfondimenti potete leggere il libro che ha scritto Patrizio Oliva per Sperling e Kupfer, si chiama Lo Spardiero, la mia storia. E volevo concludere la storia di Patrizio Oliva con una sua frase, un suo ricordo. Non c'è stato un solo match che abbia iniziato senza tremare, scrive Patrizio Oliva. La paura saliva le scalette con me ed io già allora iniziavo a combattere prima ancora di salire sul ring. Ancora auguri a Patrizio Oliva per i suoi 60 anni. Buon compleanno. Intanto per una nuova puntata. A domani.